Angela Cerbi, Fred Film Radio del Festival di Venezia, sono qui con Benedetta Porcaroli e Michele Bravi per il film Amanda di Carolina Cavalli. Buongiorno, protagonista e coprotagonista. Protagonista Benedetta e coprotagonista Michele Serra. Si, era giusto. Era giusto, avevo avuto un attimo di confusione. Allora, Amanda sei tu e Amanda è una ragazza veramente molto nervosa. Molto agitata e molto... che si fa un sacco di domande, che si chiede un sacco di cose, che vorrebbe delle risposte che nessuno purtroppo le dà. Sì. Eh, e ti ci sei trovata già di tu in una situazione con Benedetta, ci hai messo del tuo o è stata tutta una costruzione basata solo sul personaggio? Ma diciamo non si può proprio prescindere dalle persone che siamo facendo questo mestiere, inevitabilmente portiamo qualcosa di noi. Quindi, in questo caso questo è un personaggio che da una parte come umorismo, come attitudine generale un pochino mi ricorda, anche se non siamo proprio... cioè non sono messa così. Però in certi altri versi invece per niente. Diciamo che appunto il fatto che Amanda si sente un po' incompresa con questa incomunicabilità generale, appunto vuole delle risposte, però si rende conto che nessuno è disposto a dargliela, anche perché non è più proprio una bambina. Sì, e non ha neanche una situazione familiare dove è ben accettata. Detto questo, come sappiamo, diciamo quello che ci succede internamente prescinde dal contesto in cui viviamo anche, no? Quindi lei appunto avrebbe tutto ok, sarebbe tutto tranquillo, invece però non ha amici, non ha un fidanzato, non riesce a interagire con l'esterno, che le fa un po' paura. Ed è una situazione detta così abbastanza triste, però è anche da un lato anche abbastanza divertente, perché il personaggio è molto divertente, secondo me. Il personaggio è molto divertente. Molto divertente perché è talmente estrema, talmente agitata, talmente over the top, che ti fa anche un po' tenerezza. Sì, beh, un po' l'ami questa Amanda. Poi finalmente appunto conoscerà questa ragazza che sta a un problema più grande del suo, quindi lei egoisticamente si sente un po' eroica nel dare una mano a questa giovane ragazza, si sente meno in colpa, così almeno dà un senso alla sua vita, e invece però poi scopre che in realtà lei voleva un'amica, sarebbe un'ottima amica, e quindi in queste due solitudini queste due ragazze si riescono a riconoscere e incontrare. E in mezzo c'è Michele, che è l'oggetto del desiderio, l'oggetto del desiderio di Amanda, che ha un personaggio che mi ha fatto abbastanza specie, perché tu hai mani dolcezza e tenerezza. La vera interpretazione qui l'ha fatta Michele Bravi. Esatto, perché il tuo personaggio invece non è per niente... Mi rimango un po' male che nessuno mi chiede cosa ti accomuna col personaggio, perché nel film sono uno spacciatore marcio. Spaccio, sì, sono un manipolatore, spacciatore, tutto quello che è nel film ce l'ho a casa. No, però insomma io sono lì un po' a scombinare le cose, se c'è un cattivo nel film forse sono io. Sì, quello più oscuro, quello più dark di tutti. Sì, ma che poi non è così dark in realtà, perché il film racconta tanti personaggi con tante solitudini. Amanda affronta la solitudine combattendo, cercando di appartenere a qualcuno. Anch'io sono solo, perché poi passo dal parlare di droga a parlare di shampoo alla fragola nel film, però comunque cerco anch'io qualcuno da tenermi vicino e mi butto sulla prima sconosciuta che trovo ad una festa. Creando poi in Amanda un ulteriore nervosismo, ecco, pazzesco. Il tuo personaggio Benedetta ha un rapporto con la famiglia... Particolare. Sì, volevo dire inesistente, ma particolare, rende abbastanza idea, soprattutto con tua sorella. E c'è un pregresso, ed è tutto giocato molto sul, quasi sul confine del surreale, perché talmente tutto sempre esagerato e grottesco, esatto. E come si riesce a stare serie, voglio dire, a riuscire a tenere un personaggio così spinto? Abbiamo fatto tantissimi ciac, perché veramente abbiamo riso moltissimo. No, la verità è che appunto lei in questa famiglia non si riconosce, li vede come dei mostri, fondamentalmente. Per cui il padre è inesistente proprio, la mamma con dei conflitti che però a sua volta l'hanno resa una donna profondamente sola, e questa sorella infelice che scarica la sua frustrazione sulla vita della sorella piccola, che comunque una sua logica, Amanda ce l'ha, non so come dire, si riconosce amica della nipote che ha otto anni. Esatto. Ma non è casuale questa cosa, perché lei ha un suo rigore logico, che segue e che propone in maniera intransigente. A chiunque a prescindere dall'età, perché quella nipote dice delle cose da adulta. Esatto, e quindi questa famiglia ha del grottesco, perché c'è un problema di incommunicabilità bello pesante. Bello pesante, esatto. Però anche lì, quando lei capirà, insomma, c'è tutto un coming of age di questo personaggio, c'è questa scena molto bella con la madre, secondo me, in cui per la prima volta Amanda vede la madre come una donna, nella sua interezza, coinvolgendo anche i suoi conflitti. Per un attimo la guarda, come per dire, forse non ti ho mai osservata. Sì, sì, non solo come il nemico. La sua ricubina rende ciechi, quindi anche Amanda a sua volta è sempre stata una molto concentrata su di sé. Ah, certo. Incapace di empatizzare con... Michele, volevo chiederti una cosa. Ti abbiamo già visto in tv in Monterossi, e adesso ti vediamo in Amanda. Com'è questo passaggio, questi passaggi veloci nel mondo dell'immagine, invece che della musica? Per me è incredibile, dimmi tu com'è in realtà. Non capisci perché mi chiamano. Non ho sempre paura a capire, dire, ma non ti è bastato rovinare la musica, adesso sei passata anche al cinema. Poi chissà che cosa... C'è dovuto venire, capito, da noi. Sì, con tutti i posti, con le persone a sporcare tutto, capito? No, però l'esperienza com'è? È una cosa che ti piace? Per me è un grande inizio, è stato adesso, insomma, poi ci sono altre cose su cui siamo già al lavoro, che stiamo girando, però è stato veramente un bel battesimo, no? E poi il fatto che è un film che è stato concepito in maniera completamente indipendente, adesso stia avendo riconoscimenti come il Festival di Venezia, Toronto, insomma, ci sono tante cose. E quindi già nel peak, già, insomma, internamente mi ha regalato tante opportunità di lavoro nel cinema, e quindi adesso vediamo con l'incontro con il pubblico, no? E adesso c'è la corsa ai David, ragazzi. Ecco, punto. Però non è che smetti di cantare, però. Io, dopo questa cosa che hai detto, sono un po' superstizioso, è una grattatina. Il dubbio è una grattatina, vado, scusate la poca eleganza. Ma prego, tanto siamo quattro amici, ce ne siamo troppo... È stato bravo. No, dicevo. Continuiamo a cantare, però, vero? Continuiamo a cantare, sì, sì, ma a me piace continuare a tenere, insomma, viva tanti aspetti della creatività, anche perché sono molto solo nella mia vita privata, quindi ho tanto tempo per lavorare. Ecco, l'abbiamo buttata lì. Se qualcuno vuole recepire il messaggio, no? Recepisse. Bene, grazie mille a me la detta porcaroli, a Michele Bravi per il film Amanda di Carolina Cavalli, dal Festival di Venezia, io sono Angela Cerbi per Fred, The Festival Insider. Angela Cerbi, Fred Film Radio, siamo al Festival di Venezia e sono con Carolina Cavalli. Buongiorno, regista di Amanda, in Orizzonti Extra, un film che parte con un presupposto drammatico, ma poi invece così drammatico non è, o almeno la lettura del tema della solitudine non è così drammatico come potrebbe essere. Partiamo da qui. Tu racconti la storia di questa ragazza, Amanda, che ha 24 anni, che non ha mai avuto amici e che fa di tutto per averne una. Non ha mai avuto amici, però noi capiamo perché, perché è un personaggio un po' a sé, no? Decisamente a sé. È un po' a sé, ma ha una logica molto precisa, è molto coerente con quello che fai, dice, infatti è molto infastidita dal senso comune per il senso comune. Difatti ha questo rapporto con la famiglia che è molto divertente, è molto tragico in sé, perché nessuno la capisce, non ha comunicazione con nessuno, però cinematograficamente parlando è molto divertente, perché è, ne parlavamo prima con Benedetta Porcaroli, che interpreta Amanda, è un po', siamo un po' nell'ambito del grottesco, del surreale, molto spesso, no? Sì, poi la sua famiglia, cioè la composizione della sua famiglia offre molti spunti grotteschi, credo. Grotteschi, esatto. Appunto, ed è un film che io ho trovato, il personaggio di lei, per quanto lei sia sempre molto seria, molto determinata, molto agitata, molto nervosa, no? Sì, molto irruente. È molto irruente. È un personaggio in sé che è molto divertente, molto di intrattenimento, ecco, nonostante il tema. E volevo chiederti come l'avete costruito insieme con Benedetta, il personaggio, e come è nata quest'idea di questo aspetto specifico. Sì, io prima di fare quest'opera prima ho sempre fatto sceneggiatura, quindi non sono abituata a lavorare con gli attori, sono abituata a lavorare con i personaggi, li scrivi, li crei esattamente come vuoi, le immagini come vuoi, e quindi non hai mai i limiti, non hai il limite della realtà, non hai il limite del corpo. Poi quando ovviamente deve diventare una persona in carne ed ossa, effettivamente capisci che c'è un momento in cui devi responsabilizzare qualcun altro, nel senso affidare il tuo personaggio a qualcun altro. E quindi nella fase di Provini la cosa che più mi interessava era vedere se tutte le sfumature del personaggio, se qualcuno lo capiva come l'avevo scritto io. Come l'avevi scritto tu, esatto. E Benedetta l'ha fatto in maniera veramente istintiva e veramente palese, e quindi è stata una bellissima sorpresa. E poi ci abbiamo lavorato insieme e quello è stato, perché sai, poi un attore arriva con una propria intelligenza, un proprio bagaglio, un proprio... Ah certo, certo. Qualcosa di suo ce l'ha messo in sicuro. Ma no, più che qualcosa, esatto, certo, sì sì. Senti, una cosa che a me mi ha molto colpito quando ho visto il film è l'estetica. Un'estetica molto definita, soprattutto sull'uso degli spazi e dei luoghi che non sono mai luoghi definibili. Sono spazi contenitore, anche la casa, gli spazi esterni, i locali dove loro vanno. È sempre tutto molto cornice, ma non comunque definibile. C'è una scelta specifica, immagino, dietro a questo? Sì, diciamo che ancora una volta forse viene dalla scrittura, comunque quando io immagino lo spazio, la possibilità di avere questa libertà di non dover essere estremamente realistici, per me era la possibilità di far assomigliare un luogo a uno stato d'animo o a un concetto. Quindi diciamo che le cose che per me si avvicinano più a questo sono l'astrazione e i vuoti e poi la scelta di mettere insieme luoghi che magari non sono evidentemente connessi uno all'altro, così da creare una specie di spaisamento. Non so se ci sono riuscito, però... Poi funziona dal punto di vista narrativo, magari non è logico, geograficamente logico, ecco. Sì, sì, però effettivamente quando racconti una storia poi la cosa importante, almeno che non sia una storia estremamente realistica ovviamente, o storica, la cosa importante è che le regole della storia in sé funzionino tra loro, poi le regole che ci sono nel mondo vero... Non hanno importanza, non devono essere applicate per forza. Senti, come mai la scelta di Michele Bravi, che è azzecatissimo, però mi incuriosisce la motivazione. No, come ho detto anche prima, ho scoperto che è molto semplice lavorare con degli attori bravissimi o con dei non attori, in mezzo è più difficile. Quindi, essendo il primo film, avevo... volevo cercare in queste... Metterti in una situazione un po' più di... Sì, no, ma anche perché i non attori sono molto naturali. Michele ha queste due cose, è un ottimo... è strano perché non è... Adesso credo che la sua carriera sia cominciata e sia andando benissimo, però non... è un ottimo attore naturale. Non so se poi aiuta il fatto di essere... di avere un rapporto con il pubblico, comunque fare... comunque è un artiste... Esatto, quindi... però era... è stato molto naturale e io avevo immaginato un personaggio molto diverso al provino, prima del provino. Poi lui ha portato questo un po'... Aveva un po' Vincent Gallo, un po' Ben di Blue Velvet, si chiama Dean Stockwell. Aveva questa faccia molto... poi è molto cinematografica. Sì, molto cinematografica. Quindi qualsiasi cosa fa la rende molto cinematografica. Ed ha anche l'altezza che aiuta, devo dire, moltissimo. Crea il personaggio. Sì. No, comunque è stata una scelta veramente... una bellissima sorpresa. Sì, grazie. Come il film in sé. Grazie. Quindi ti ringraziamo molto e ringrazio Carolina Cavalli. Grazie per essere stata con noi, regista di Amanda al Festival di Venezia, sezione Orizzonti. Io sono Angela Cerbi per Fred, Festival Insider. Grazie mille. Grazie.